Sono Marco Balic e sono insieme al mio socio e fondatore della Balic Wonder Studio Gian Maria Serra e siamo qui a raccontare che ci azzecca qualcuno che fa intrattenimento con il mondo dell'architettura, il mondo dell'urbanistica, che centriamo noi? Noi centriamo in come? Perché noi ci siamo specializzati nello studio dell'emotività. Abbiamo un'esperienza grande, siamo quelli che hanno fatto più cerimonie olimpiche al mondo, abbiamo fatto 14 tra Gian Maria e Dio insieme in tutto il pianeta. Quando fai una cerimonia olimpica cerchi di parlare a tutto il pianeta e quindi cerchi di parlare con il linguaggio più forte che c'è, che non è solo la spettacolarità che quella diventa desvetta, non è la tecnologia ma è l'emotività, l'emozione, è la pelle d'oca che tu crei, quel momento che ti rimane impresso nella memoria perché lo collega a un'esperienza meravigliosa. Con questo senso dell'emotività come valore guida di un progetto abbiamo cominciato ad interessarci del mondo dell'architettura. Diciamo che questa tecnica con cui noi abbiamo portato avanti il nostro percorso, che chiamiamo ingegneria emozionale, l'abbiamo poi applicata nei luoghi creando il concetto dell'emotional masterplan. L'emotional masterplan si pone un obiettivo che è quello di trasformare un posto fisico in un luogo emozionale, ovvero una visione artistica coesa, integrata, che si applica sopra ad un masterplan fisico, ad un luogo che magari è già stato disegnato o che magari abbiamo la fortuna di partecipare, di influenzare nella sua progettazione. L'emotional masterplan va a creare il disegno delle esperienze e dei contenuti di un luogo. Ogni luogo dello spazio urbano deve essere parte integrante e fondante della nostra esperienza quotidiana. La cosa fondamentale è che per poter creare contenuti nei luoghi bisogna lavorare assolutamente in modo integrato tra diverse professionalità. E un punto poi di atterraggio è la creazione di una social experience destination, ovvero dove hai la possibilità in un quartiere di creare un centro di raccolta, un centro sociale dove la presenza di contenuto crea uno spazio di destination, uno spazio di attrazione. A quel punto hai veramente la possibilità di determinare in modo profondo la storia futura di quel luogo. Se riesci a fare una progettazione integrata che quindi stia in piedi anche dal punto di vista economico, dal punto di vista del business plan, a quel punto stai creando qualcosa che aumenterà esponenzialmente anche il valore degli sviluppi immobiliari che ci sono intorno. Con questo si possono creare dei progetti non solo unici ma dei progetti che siano sostenibili economicamente, che siano attrattivi per le persone e che possano profondamente cambiare l'esperienza di tutti quelli che ci ruotano intorno. Questi sono gli elementi principali diciamo del nostro lavoro quando veniamo chiamati in questo senso, cioè va dalla creazione di un'identità a la creazione di landmark iconici perché è fondamentale per rimanere nell'immaginario visivo delle persone, creare dei simboli. Attività di intrattenimento, meanwhile activation, quindi attivazioni della comunità locale finché il luogo non è stato realizzato nel suo progetto completo. Nel fare questo per noi è fondamentale che il lavoro sia fatto in sinergia completa con tutti quelli che lavorano su quei progetti. Riuscire a fare un progetto già integrato che a 360 gradi guardi anche gli spazi pubblici e non solo quelli privati, è quello che secondo noi può fare realmente la differenza.